Infatti, stia pure tranquillo. Grazie, buongiorno. Ciao Mary, come sta? Buongiorno signorina, non c'è male. Ah, guardi, questi articoli parlano tutti di lei. Ah, che meraviglia. A dire la verità, proprio non me l'aspettavo. Questo servizio è il migliore che abbia visto. E non è finita, guardi qua. Ah, dimenticavo, appena telefonato per lei il signor François. L'ho pregato di richiamare più tardi. Hai fatto bene. E il mio caro François, se soltanto immaginasse quanto gli sono grata. Buongiorno signorina Ivana, come sta? Bene Mary, grazie. Gradite una tazza di caffè? Sì, ti ringrazio. Ve la porto subito.